Buonasera a tutti, benvenuti nel Salone Bolognini. Quindi, prima di dare la parola alla Giovanna Cenacchi che condurrà la serata sul tema della libertà e dell'intelligenza artificiale, volevo ricordare due cose. Dall'ultima volta che ci siamo visti, purtroppo è capitato quello che tutti sappiamo in Emilia Romagna e questo rimane nella nostra mente anche se parliamo di altre cose. La seconda cosa che volevo ricordare è che sempre dall'ultima volta che ci siamo visti, una notizia recente, l'incarico che è stato delicatissimo, che è stato affidato al nostro Cardinale Arcivescovo di condurre le trattative per conto della Santa Sede per la pace tra Russia e Ucraina. Credo che possiamo azzardare un segno di incoraggiamento sia per i nostri amici della Romagna sia per il Cardinal Zuppi con un rapido applauso. Grazie e lascio la parola a Giovanna. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qua. Questa serata penso è molto interessante per l'argomento che abbiamo da discutere con colleghi e giovani dottoroni. grandi, che si occupano di questo tema importantissimo che da un lato ci impaurisce e dall'altro ci affascina. È veramente intrigante, cioè abbiamo un po' paura ad affrontarlo per scoprire cose che forse potrebbero veramente terrorizzarci oppure anche invece di scoprire che le applicazioni in questo campo invece saranno di grande aiuto per lo sviluppo dell'uomo. Certo è che dobbiamo anche capire quanta libertà e se libertà ci sarà per noi in questo nuovo mondo. Credo che potremmo parlarne molto approfonditamente con Giuseppe Finocchiaro, che è professoressa ordinaria di diritto privato e diritto di internet, è presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e tra l'altro è presidente della Commissione per il Commercio Elettronico dell'Uncitral e ovviamente ricercatrice di importanza a livello europeo e che ci parlerà proprio poi della parte più giuridica legata alla Pride, legata ai problemi legali che ci stimolerà il professor Gabrielli. Invece è professore ordinario di informatica presso la nostra università, direttore di Master di Management in Digital Technology e esperto quindi della parte tecnologica e non solo, che riguarda appunto le applicazioni più innovative dell'informatica nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione dei dati. Ma credo che, visto che questi temi riguarderanno soprattutto noi, ma soprattutto il futuro, soprattutto i giovani, abbiamo con noi anche Andrea Zanellati, che è invece laureato in matematica e frequenta il dottorato di ricerca in Data Science Computation e il suo interesse di ricerca proprio è rivolto all'applicazione dei metodi e delle tecniche di Data Science Machine Learning in ambito dell'educational. Credo proprio che, partendo un po' anche da questa terminologia, che sembra un po' ostica, che sentiamo tutti i giorni, ma forse non ne conosciamo bene bene, il significato, il contenuto e anche le complicanze e le implicanze che potranno avere nel nostro modo di vivere tutti i giorni, credo che partendo da qua potremo dare subito la parola a Professor Gabrielli, che ci introdurrà in questo tema un po' ostico e un po' affascinante. Grazie, grazie Giovanna. Allora, buonasera a tutti. Fa un po' impressione, devo dire, nonostante la lunga abitudine a parlare in pubblico, ma a parlare qua dentro è veramente qualcosa di diverso dal solito, quindi grazie, grazie a tutti per questo invito. Io cercherò molto brevemente di inquadrare gli aspetti un pochino più tecnici che riguardano l'intelligenza artificiale, cioè di dare un po' di informazione e di contesto per poterne parlare poi riguardo ai temi della libertà con una qualche cognizione di causa. Provo ad usare qualche immagine, non userò delle slide, uso soltanto un paio di immagini. Allora, partiamo, alcune slide sono in inglese, altre in italiano, mi scuserete poi per questo, spero. Allora, partiamo da una definizione provocatoria, una sorta di ossimoro, se volete, di Peter Norvig, l'autore del testo di intelligenza artificiale più diffuso nel mondo a livello universitario, nonché ex direttore della ricerca a Google, che dice, l'intelligenza artificiale, l'AI, consiste nel sapere che cosa fare quando non sai che cosa fare. Allora, questa ve la metto qua come, diciamo, piccola provocazione iniziale, e poi spero di arrivare più avanti a spiegare un pochino il senso di questa definizione. E, diciamo, per arrivare a spiegare questa definizione, partiamo da un qualche, qualche piccola nozione storica, senza voler essere didascalico, pedante, e abbiamo pochissimo tempo, ma per mettere veramente nel contesto giusto queste cose delle quali parliamo stasera. L'intelligenza artificiale, insomma, corrisponde per certi versi al sogno dell'uomo di realizzare macchine che ragionano, macchine, non voglio dire pensanti, ma macchine capaci di ragionamento. Allora, se la prendiamo da questa prospettiva, possiamo partire molto lontano, possiamo partire sicuramente dal sillogismo aristotelico, che è un primo tentativo di formalizzare il ragionamento, il ragionamento in termini formali, in termini anche utilizzabili. Certamente Aristotele non pensava a un'implementazione poi concreta su un computer, evidentemente, però già da allora si può vedere un primo collegamento con questi temi, ma mi fa piacere qui far vedere questa immagine. Questo è tratto da un testo del XIII secolo, Ramon Lull, filosofo conosciuto ai presenti molto più che ha sottoscritto, probabilmente. Lui nell'Ars Combinatoria parla di una macchina fisica che consiste di dei dischi concentrici sui quali sono rappresentati concetti simbolici, concetti mediante simboli, diciamo, e muovendo questi dischi in modo opportuno si possono effettuare dei ragionamenti. Ora, questo è il XIII secolo. Peraltro, va ricordato che uno degli obiettivi di Lull era quello di usare questo tipo di machinery, diremmo oggi, di macchina per il ragionamento, per convincere i musulmani della correttezza della religione cristiana, della fede cristiana e cattolica. Quindi, insomma, era un confine un po' diverso da quelli che oggi hanno, quelli che si occupano di intelligenza artificiale. Poi, non possiamo non ricordare Leibniz, il calculemus, rappresentiamo in un sistema algebrico universale tutto lo scibile, tutti i possibili problemi del mondo. Una volta che abbiamo questo sistema, calcoliamo, usiamo un bottone, diremmo oggi, facciamo partire il nostro sistema di calcolo e quello ci risolve un qualsiasi problema, sia esso pratico, fisico, metafisico. Giedel poi dimostrerà che questo sogno è impossibile da realizzarsi, però, insomma, calculemus è qualcosa che ci risuona parlando di intelligenza artificiale. E poi arriviamo a Turing, quindi all'intelligenza artificiale antelitteram, antelitteram perché il termine intelligenza artificiale è nato nel 1956, questi personaggi qua coniarono la terminologia che noi usiamo correntemente. Turing, però, ben prima, dieci anni prima si occupa di due cose, ha fatto tantissime cose, Turing è un gigante assoluto della nostra disciplina e non solo, ma fece due cose. La prima analizzò quello che è alla base della nozione di calcolo, come noi la utilizziamo anche quotidianamente, della nozione di algoritmo, diremmo in termini un po' più precisi, e riuscì a definire un formalismo di calcolo, uno strumento di calcolo con una macchina di Turing, che ad oggi è insuperato come potere espressivo, quindi tutto quello che noi riusciamo a fare con un calcolatore lo facciamo con una macchina di Turing. Quindi lui formalizzò il meccanismo, proprio la dimensione profonda del calcolo meccanico. si interessò anche di intelligenza artificiale e parlando di intelligenza artificiale fece varie cose. Uno identificò l'apprendimento come una componente essenziale dell'intelligenza artificiale e poi diede una risposta alla domanda che gli facevano in molti e che ci fanno anche oggi le macchine possono pensare, diede una risposta che è importante almeno per l'informatica e la risposta di Turing è questa. A noi non ci interessa se le macchine possono pensare, non ci interessa se le macchine sono intelligenti, ci interessa se le macchine possono esibire un comportamento intelligente. Peraltro continua Turing in modo un po' provocatorio, il personaggio insomma era particolare, se io parlo con un interlocutore umano non so se questo stia effettivamente pensando. Uso la polite convention dice Turing, l'educata convention di supporre che lui stia pensando o lei stia non pensando. Quindi ecco, questo è un primo punto importante, l'intelligenza artificiale dal punto di vista informatico consiste nel realizzare sistemi che esibiscono un comportamento intelligente. Sono intelligenti? Non lo sappiamo. È una domanda importante per i filosofi, per quelli che si occupano di epistemologia, per gli scienziati cognitivi, per gli informatici è una domanda secondaria, lasciatemi dire, cioè per noi l'importante è realizzare un sistema che ha questo comportamento esterno. Se voi prendete il programma che negli anni Ottanta sconfisse il campione del mondo di scacchi, Kasparov, se parlate con Kasparov dice che avvertì nell'avversario una sorta di, lui usa dei termini evocativi, di personalità, di forza psicologica, di anche violenza in alcuni casi, gli scacchi sono un gioco molto violento, psicologicamente evidentemente, se guardate il programma che c'è dietro a quella vittoria, è una roba assolutamente banale, è un programma che usa un algoritmo che si chiama Minimax con una tecnica di taglio delle possibilità alfabetta pruning, è una roba che si potrebbe spiegare in dieci minuti, banale veramente. Quindi c'è questa discrepanza fra quello che appare esternamente e quello che c'è sotto, ma senza spingersi troppo oltre, se ci pensate un attimo anche noi, insomma, da questo punto di vista, dal punto di vista fisiologico, rimanendo al puro ambito fisiologico, se andiamo a vedere come funzionano i singoli neuroni, i singoli neuroni fanno delle cose assolutamente elementari, fanno delle somme pesate e poco più, insomma, quindi su questo poi c'è tutta la sovrastruttura successiva, ma quindi, insomma, appunto, bisogna tenere presente di questo aspetto di simulazione. Dopodiché, come facciamo a simulare un comportamento intelligente? Allora, e qui si arriva alla definizione iniziale, ci sono due approcci, l'approccio tradizionale algoritmico, e cioè, basato poi sulla logica, sui metodi formali, sulla matematica, cioè, io raccolgo il sapere di una certa disciplina, prendiamo l'ambito medico, perché c'è Giovanna qui, ma anche perché è quello un pochino più semplice da spiegare, prendo tutta la conoscenza medica in un certo ambito, prendo la diagnostica di un certo ambito, la radiologia, codifico questa conoscenza, da questa conoscenza estraggo delle regole, se si verifica questo sintomo, se c'è questa immagine, se allora il paziente ha questo, e queste immagini, e queste, scusate, regole, poi le uso in un sistema di ragionamento automatico, un sistema di inferenza basato sulla logica che permette appunto di fare deduzione, che in alcuni casi può fare anche abduzione, può fare anche induzione, ma insomma, dei sistemi formali basati sulla logica, che fanno, o altro, ma che fanno esattamente quello che noi gli diciamo. Questo è l'approccio algoritmico tradizionale che è lo stesso dell'informatica classica. L'informatica, diciamo, classica consiste nel dare al computer tutte le istruzioni precise, necessarie, perché il computer faccia una determinata cosa. Non c'è nessuna invenzione da parte del computer, nessuna creatività, nessuna creazione di conoscenza di nessun tipo. Questo è l'approccio simbolico che è molto importante nell'ambito dell'intelligenza artificiale, anche dell'intelligenza artificiale, e che produce i risultati che tutti vediamo, utilizziamo tutti i giorni computer per gli scopi più diversi. Però con questo approccio non risolviamo questo problema qua. Allora, qui è un'immagine medica, sono dei vetrini di linfonodi sentinella che si usano per fare la diagnosi precoce del tumore del seno. Vabbè, ora questo ci interessa relativamente. Allora, il punto è che ci sono due tipi di immagini, vedete lì in verde e in rosso, con il bordo verde e rosso, una è un'immagine patologica di un tessuto con una patologia, l'altra invece è un tessuto normale. Allora, il patologo, suppongo, esamina questi vetrini e dice bene, non bene. Allora, se noi volessimo far fare questa cosa ad una macchina, volessimo istruire la macchina, volessimo dare alla macchina l'algoritmo per fare questa cosa qua, noi non lo sapremo fare. Non lo sappiamo fare, perché non c'è un algoritmo per discriminare in maniera precisa questi due tipi di immagini. Ci sono delle cose che possiamo osservare, anche noi profani, da una parte sono più scure, dall'altra sono più chiare, le immagini, ma non c'è un algoritmo. Quindi, non essendoci l'algoritmo, no algorithm, no program, non possiamo fare niente con l'approccio tradizionale. È un fatto però che le macchine, questa immagine tratta da un articolo dove viene presentato questo sistema basato sul deep learning che ha un'accuratezza nel discriminare le immagini del 96%, migliore di molti patologi. Allora, la domanda è come fanno le macchine a fare questa cosa qua. Quindi, come fa la macchina a fare questa cosa che non sappiamo come fare? E qui si ritorna alla definizione iniziale. Cioè, noi vogliamo che la macchina riesca, impari a realizzare questo compito, questo task, discriminare, classificare questi due tipi di immagini senza che noi si sappia dare alla macchina un metodo per farlo, un algoritmo. Allora, la risposta a questa domanda retorica, se volete, è nell'apprendimento automatico, nel machine learning. Cioè, la macchina, quando dico macchina lo dico in senso lato, cioè il software più lardo, evidentemente, riesce ad analizzare, può analizzare grandissime quantità di dati, centinaia di migliaia di immagini, tutte già etichettate correttamente, e con un processo iterativo che richiede grandi quantità di dati e anche grandi capacità di calcolo, la macchina riesce a migliorare, usando tecniche matematiche, non particolarmente sofisticate peraltro, riesce a migliorare l'errore che fa. Cioè, ad ogni iterazione la macchina, iniziando in modo puramente random, all'inizio la macchina dà risposte a caso, poi piano piano riesce a diminuire l'errore che compie, minimizzare l'errore, fino ad arrivare ad un errore prossimo a zero. A quel punto la macchina ha imparato a discriminare e i risultati pratici sono quelli che noi vediamo. Ripeto, qui il 96% di accuratezza nella radiologia, come dicevamo oggi, ormai i radiologi sono quasi disoccupati perché le macchine sono in grado di reggere le radiologie con questo tipo di metodologie, in maniera più precisa di quanto possa fare l'essere umano. Allora, qui si apre un altro mondo perché qui abbiamo delle applicazioni veramente sconvolgenti, ve ne dico una su tutte, che è di poche settimane fa, che dicevamo prima, ora, lo dico in modo giornalistico o sensazionalistico, la lettura del pensiero fatta con il machine learning. questo è un articolo che è comparso su Nature, non è su Topolino. Allora, esiste la risonanza magnetica funzionale, fMRI, la risonanza magnetica funzionale che registra l'attività del cervello quando questo esegue determinati compiti. Quello che viene fatto è registrare l'attività cerebrale di individui, ovviamente, che si prestano all'esperimento, quando vedono delle immagini, pensano a dei concetti e altro di simile. Dopodiché, una volta che la macchina ha imparato ad associare quella particolare attività cerebrale con tecniche di machine learning a quel particolare concetto, a quel particolare testo, la macchina può fare questa cosa che, con una connessione internet, potremmo anche vedere, ma ci metteremo troppo tempo, ma comunque se la cercate online, cercando Mind Reading Università di Texas dove hanno fatto questa roba, lo trovate, c'è un film, insomma, un breve film dove si vede delle immagini di un cartone animato e sotto del testo che appare, che descrive le immagini, quel testo è generato dalla macchina che sta analizzando le immagini fatte con l'FMRI, con la risonanza magnetica funzionale del cervello della persona che guarda le immagini. Non so se mi sono spiegato, ho fatto un giro di... Quindi, qui si arriva veramente ai limiti, no, dei limiti molto pericolosi sul Nature del primo maggio c'è un articolo dove ci si chiede se queste cose si debbano fare o non si debbano fare. Quindi, il machine learning apre tutte queste possibilità e cercando di arrivare al tema di questa serata ci sono queste prospettive bellissime, appunto, il riconoscimento di immagini, il letturo del pensiero, eccetera, ma quali sono i problemi di questo tipo di attività? Allora, un primo problema... Ce ne sono diversi... Ce ne sono diversi... Ve ne faccio vedere due. Facciamo questo. Allora, un primo problema è che questi sistemi imparano dai dati. Cioè, non siamo noi che gli trasferiamo conoscenza, imparano dai dati. Se i dati contengono del bias, delle informazioni distorte, i sistemi si prendono questa informazione e la possono anche amplificare. Questo si può dimostrare con questo esempio classico per gli addetti ai lavori. Allora, nella elaborazione del linguaggio naturale fatta con sistemi di machine learning si usano delle trasformazioni delle parole in vettori per motivi tecnici. Insomma, ora, senza entrare troppo nel dettaglio del perché e questa trasformazione è fatta di nuovo utilizzando delle tecniche di machine learning. Faccio un esempio concreto. Se io uso la parola papà e babbo come si dice dalle mie parti, è chiaro che queste due cose significano termini sintatticamente molto diversi significano la stessa cosa. Allora, come faccio io ad avere una rappresentazione uniforme di questi due oggetti che sintatticamente sono molto diversi? Allora, se io cerco di arrivarci da un punto di vista logico, sintattico, di manipolazione di simboli, ci hanno provato ma non si va quasi da nessuna parte. Quello che possiamo fare è consultare un corpus di conoscenze precedenti, i testi, i testi ad esempio di questa bellissima biblioteca, vedere che l'occorrenza di babbo e l'occorrenza di papà più o meno hanno lo stesso significato, cioè occorrono negli stessi contesti e da questo derivare che babbo e papà sono più o meno la stessa cosa e quindi possono avere la stessa rappresentazione matematica, la stessa rappresentazione vettoriale, lo stesso insieme di numeri. Fatto questo possiamo fare delle equazioni con queste rappresentazioni, possiamo, vedete come è scritto qua, fare cose che 20 anni fa, 30 anni fa sarebbero state impensabili, chiedere al sistema se io faccio Parigi meno Francia più Italia che cosa ottengo? Allora prendo diciamo l'idea di Parigi, capitale della Francia, gli tolgo l'idea, ora uso il termine idea in modo un po' evocativo, non è l'idea, ma insomma gli tolgo l'informazione relativa alla Francia, gli sommo quella relativa all'Italia, ottengo Roma, la capitale dell'Italia, re meno uomo più donna regina, no? Cioè ragiono in maniera diretta utilizzando questi strumenti con il significato di questi termini, no? Fin qui tutto bene, ma poi hanno provato a fare medico meno uomo più donna. Che cosa ci aspetteremmo qui? Ci aspetteremmo medico di nuovo, dottoressa. il risultato invece con l'addestramento che è stato fatto al sistema è infermiera. E se noi facciamo negoziante meno uomo più donna casalinga, programmatore di computer meno uomo più donna casalinga, allora qual è il problema qua? Il problema è che questi sistemi sono stati addestrati sui dati reali della nostra società. Questi dati contengono questi bias e questo è il risultato. questi esempi si possono fare in altri settori andando nell'ambito giuridico ci sono stati si è iniziato a usare questi sistemi ad esempio per decidere se concedere oppure no negli Stati Uniti la libertà su cauzione. Si è dovuto smettere perché si è visto che i sistemi discriminavano le persone di colore rispetto ai bianchi. Si è provato ad usarli per l'assunzione di personale nelle aziende. si è visto che discriminavano per ruoli di top management discriminavano le donne rispetto agli uomini negativamente le donne. Perché? Perché questi sistemi imparano da una realtà che è quella in cui viviamo che contiene questi bias. Quindi un primo tema importante è quello dei bias quello quindi di realizzare sistemi che siano liberi da questi bias per poter essere utilizzati correttamente entrando nel dettaglio un pochino di più della serata sul tema della libertà allora chi è che possiede questi sistemi? Chi è che fa queste cose qua? World2Vec si chiama World2Vec questo sistema qua chi l'ha fatto? L'ha fatto nel 2013 Google chi sono i detentori oggi della tecnologia e soprattutto dei dati perché qui penso sia chiaro a questo punto dovrebbe essere chiaro che al di là degli algoritmi che ci sono per far funzionare questi sistemi di apprendimento automatico servono grandissime quantità di dati e noi nostri dati tutti noi noi individui ma noi anche aziende noi istituzioni a chi li diamo? Li diamo alle major tecnologiche americane a Google a Facebook in Cina ci sono gli analoghi allora qui c'è un tema importante sulla libertà in questo senso che noi stiamo dando a queste aziende dal mio punto di vista almeno e non solo sono buona compagnia stiamo dando a queste aziende che hanno un modello di business basato in qualche modo su una cultura della sorveglianza ora non voglio dirlo in maniera eccessiva ma cultura della sorveglianza intendo semplicemente il fatto che tutto quello che noi facciamo con i nostri dati usando i servizi di queste aziende va a finire nei database nei server di queste aziende se voi avete una macchina Tesla mentre la guidate la macchina Tesla va in giro fotografando tutto quello che c'è da fotografare voi lo sapete forse sì forse no quando avete firmato un contratto di acquisto di una Tesla c'era una clausola che diceva questa cosa qua forse non ve ne siete accorti che è una Tesla ma c'era quindi noi stiamo dando a queste grandi aziende che hanno sviluppato il loro modello di business sull'utilizzo di questi dati stiamo dando a loro la possibilità di entro certi limiti di decidere della nostra libertà cioè voglio dire ora questo lo dico in modo un po' paradossale ma se domani Google il signor Google chiunque sia decidesse che ha abbastanza lavorato abbastanza abbastanza i soldi chiude tutto chiude tutto e interrompe tutti i servizi di Google lo può fare entro certi limiti ma non è che non è che noi si abbia delle garanzie vi faccio vedere per concludere non voglio rubare tempo a Giusella alla mia collega vi faccio vedere per concludere cosa è scritto tutti parlano adesso di ChatGPT poi ci sono molti altri temi ChatGPT è questo sistema che tutti avete visto che risponde a qualsiasi domanda voi facciate allora ChatGPT dice che questo è tratto dalla nota legale di ChatGPT dice che l'intelligenza artificiale sono campi in rapida evoluzione hanno una natura probabilistica e quindi possono dar luogo ad output incorretti che non riflettono correttamente accuratamente persone luoghi o fatti dovreste valutare l'output prodotto nel vostro caso e usare una revisione umana dell'output prodotto e sotto dicono anche che questo è la clausola standard per tutti i software che nei limiti ovviamente della regolazione vigente eccetera eccetera loro non sono responsabili per niente quindi e qui veramente finisco per vari motivi che magari dopo possiamo anche cercare di affrontare con l'aiuto di Giusella soprattutto e con una discussione queste aziende si sono create una sorta di bolla di vuoto giuridico nel quale prosperano e riescono a vendere se voi faceste delle lavatrici non vi potreste sognare di scrivere qualcosa del genere e di vendere una lavatrice con queste clausole qua loro queste aziende si sono create questo questo vuoto giuridico che corrisponde ovviamente a dei loro modelli di business ben precisi e che per molte persone è problematico concludo veramente citando appunto questa questa pubblicazione che sta per uscire un po' provocatoria della nostra collega anche mia amica Daniela Tafani sistemi fuori controllo prodotti fuori legge la cosiddetta intelligenza artificiale lei è molto provocatoria almeno con noi e il risveglio del diritto dove appunto dice questa cosa che vi stavo dicendo la Silicon Valley è riuscita a costruire intorno a sé una fortezza antiregolamentare promuovendo il mito che il settore tech sia in qualche modo fondamentalmente diverso da ogni altra industria che l'ha preceduto quindi concludendo i problemi dal mio punto di vista questa è la mia opinione personale i problemi per la nostra libertà non derivano dalla tecnologia di per sé quella tecnologia lì può essere usata bene può essere usata male è una delle tante tecnologie presenti il punto è che si è creata una situazione con questi monopoli altro tema importante con sfruttamento anche di lavoro nel terzo mondo eccetera eccetera per cui alcune aziende molto importanti sembrano sfuggire alle regole normali diciamo del del commercio e del diritto e questo questo pone certamente un problema per i motivi che ho cercato di dire io finirei qui per adesso vi ringrazio l'attenzione e poi continuiamo dopo grazie grazie davvero credo che abbiamo messo sul tavolo un po' di un po' di problemi anche mosso molte curiosità e e stimoli sicuramente la discussione credo che una cosa bisogna dire che speriamo che i dati glieli diano sempre delle donne a queste macchine perché altrimenti finiamo veramente in un mondo altro che ma siamo qua che lottiamo per l'emancipazione poi rimaniamo che siamo sempre relegate a dei ruoli va bene passiamo avanti adesso lasciamo la parola a Giusella che spero ci possa difendere dal punto di vista appunto legale su questi temi così importanti grazie grazie innanzitutto di questo invito di questa bella occasione di dialogo e di confronto svolgerò qualche considerazione breve cercando di strutturarla di strutturare le mie considerazioni fondamentalmente su tre ambiti primo l'importanza delle parole che usiamo secondo la libertà e terzo la prospettiva geopolitica l'importanza delle parole noi parliamo di intelligenza artificiale prima Maurizio Gabrielli ci ha spiegato che in fondo è una domanda secondaria definire se questi sistemi di intelligenza artificiale che usiamo siano intelligenti alla moda umana diciamo così ma dal punto di vista giuridico il fatto di parlare di intelligenza è molto importante perché condiziona senza che noi ce ne accorgiamo il ragionamento se noi non chiamassimo le applicazioni di intelligenza artificiale di intelligenza artificiale di chiamassimo in un altro modo capacità di elaborare capacità di rispondere alle domande capacità di dare dei risultati saremmo certamente in un contesto da un punto di vista letterario retorico meno affascinante forse più corretto certamente meno condizionante cioè il fatto che noi parliamo di intelligenza ci fa automaticamente pensare a un essere intelligente che sta dietro quel prodotto che usa quella particolare forma di intelligenza non necessariamente umano perché anche gli animali sono intelligenti in un altro modo ma comunque è un essere questo è molto importante dal punto di vista innanzitutto giuridico che è il mio punto di vista ovviamente ma anche da altri punti di vista che cercherò poi di analizzare quando parleremo della libertà perché ci condiziona ci condiziona nel nostro ragionamento di qui tutti i discorsi sulla soggettività e c'è un'intelligenza c'è un soggetto intelligente questo soggetto intelligente va riconosciuto va riconosciuto anche dal punto di vista giuridico e quindi va attribuita a una soggettività se non addirittura a una personalità giuridica e di qui poi i vari sviluppi del ragionamento ma tutto questo parte dalla parola che abbiamo scelto intelligenza se avessimo scelto parole diverse probabilmente non saremmo condizionati in questa direzione quindi un primo aspetto importante che voglio sottolineare stasera è quello dell'importanza delle parole che stiamo usando se sia intelligenza è una domanda secondaria abbiamo sentito prima se sia soggetto intelligente dal punto di vista giuridico eppure è una domanda secondaria al di là di quello che pensiamo perché la soggettività giuridica quindi riconoscere un essere intelligente ha senso soltanto se tutto questo conduce ha un nuovo modello di responsabilità cioè se il soggetto intelligente poi risponde di quello che fa quindi risponde dei danni che provoca risponde a quelle donne a cui è stato negato l'accesso a determinate professioni risponde per i danni che ha cagionato nella diagnosi sbagliata risponde dal punto di vista giuridico quindi se volete brutalizzare il discorso paga danni che ha cagionato ora dal momento che non abbiamo un modello di responsabilità che consenta questo passaggio almeno fino adesso e possiamo certo interrogarci se non sia utile elaborare un modello di questo genere ma dal momento che in questo dal momento che in questo momento storico non abbiamo un modello di responsabilità di questo tipo chiedere se ci sia un soggetto dietro quella intelligenza dal punto di vista giuridico semplicemente è inutile non porta a nessuna conclusione rilevante può essere utile da altri punti di vista filosofico può essere utile dal punto di vista epistemologico e qui ricalco le parole che diceva Maurizio però dal punto di vista della mia disciplina può essere utile da quei punti di vista ma dal punto di vista strettamente giuridico se non è associato tutto questo a un nuovo modello di responsabilità che ripeto non c'è e di cui non si parla in questo momento storico è inutile porsi sostanzialmente il problema parlare di intelligenza artificiale in termini soggettivi certamente è molto affascinante e qui noi in questo momento viviamo il portato della nostra cultura letteraria cinematografica variamente immaginifica pensate che addirittura in una risoluzione del Parlamento Europeo del 2017 una delle prime che si occupò di intelligenza artificiale per la prima volta che mi risulti fu citata un'opera letteraria e cioè furono citate le leggi della robotica di Asimov in un documento giuridico e questo è certamente straordinario perché vi dà l'idea di quanto si sia condizionati da un certo tipo di cultura e questo è importante averlo presente perché l'antropomorfizzare l'intelligenza artificiale e vedere come dirò fra un attimo nell'intelligenza artificiale un nuovo mito condiziona non soltanto la produzione giuridica che sarebbe cosa per tecnici per persone che praticano quella professione quel mestiere come me ma condiziona la nostra libertà condiziona la nostra società vengo al secondo punto libertà vi siete mai chiesti perché gli errori che commette chat gbt si chiamano allucinazioni e non semplicemente errori anche qua non c'è una scelta delle parole che usiamo vengono chiamati allucinazioni non vengono chiamati errori sbagli malfunzionamenti difetti parole brutte naturalmente tecniche poco poco evocative no si scelgono le parole della fantasia della letteratura del mito le allucinazioni di chat gpt per suggerire ancora una volta che dietro c'è un soggetto che dietro c'è una certa cultura che si sta creando un nuovo mito e qui c'è la nostra limitazione della libertà perché se voi interrogate chat gpt su di me cosa che io ho fatto pochi giorni fa e che tanto faccio viene fuori che sono una professoressa di diritto internazionale io insegno diritto privato quindi non diritto internazionale però diritto internazionale che mi sono laureata a Palermo mentre mi sono laureata a Bologna e qui c'è chi lo può testimoniare che il mio dottorato l'ho conseguito a Milano invece l'ho conseguito a Firenze all'Istituto Europeo e via di seguito che mi occupo di protezione dei diritti umani che è tema fascinante ma di cui io non mi occupo nella mia ricerca e così via ora tutto questo tutto quello che io ho trovato sul mio profilo è certamente falso ma è verosimile perché comunque io sono una giurista perché comunque lavoro anche in campo internazionale perché comunque ho conseguito un dottorato quindi è falso ma non clamorosamente falso se avessi trovato che io sono non so una chimica una professoressa di chimica industriale vabbè sarebbe clamorosamente falso perché di chimica sono totalmente ignorante e nessuno mi associerebbe mai alla chimica ma associarmi comunque al diritto benché ad altri aspetti del diritto beh questo è verosimile è verosimile viene presentato con un linguaggio seducente non con un linguaggio brusco tecnico ma molto accattivante porta l'interlocutore o comunque chi c'è dall'altra parte in una certa direzione inconsapevolmente ora poco importa della mia biografia però tutto questo spostatelo applicatelo ai consumi applicatelo alle informazioni politiche applicatelo al contesto sociale e così via non è innocuo tutto questo avere a che fare con delle informazioni che sono verosimili ma false che sono apparentemente innocue però in realtà veicolano qualche cosa di diverso non dico dalle opinioni ma dai fatti perché che io mi sia laureata a Bologna è un fatto che il mio dottorato lo abbia conseguito a Firenze è un altro fatto incontrovertibile non sono opinioni non sono come dire punti di vista diversi che i fatti vengano veicolati in maniera apparentemente innocua ma comunque falsa questo ci dovrebbe fare riflettere ci dovrebbe fare riflettere come cittadini dal punto di vista politico come consumatori perché naturalmente questo è un modo per portarci a consumare non necessariamente beni o servizi ma anche informazioni di un certo tipo che vengono appunto veicolate attraverso questa applicazione ovviamente ci sono tanti attenuanti possiamo dire che ChatGPT si è formata su un database del 2021 possiamo dire che in realtà si tratta di passi soltanto iniziali tutto questo è ovvio ma l'esempio aveva il senso e lo scopo di porvi davanti al problema in maniera diretta le attenuanti in questa fase in questo momento non interessano la nostra libertà se noi assumiamo informazioni false le nostre decisioni sono false sono falsate c'è un bias su di noi e sulla nostra conoscenza soprattutto non solo a livello individuale ma soprattutto a livello collettivo e questo certamente è un problema perché siamo spinti in questa direzione perché siamo innanzitutto consumatori consumatori ripeto di beni servizi ma anche di informazione perché c'è interesse ovviamente di chi in questo momento gestisce il mercato che andiamo in una determinata direzione la nostra libertà di scelta se noi siamo falsamente informati è limitata perché per scegliere dobbiamo innanzitutto conoscere comprendere capire e poi possiamo scegliere è limitata non soltanto dall'urgenza del nostro tempo ma è limitata dalle informazioni a cui stiamo attingendo i grandi giuristi del secolo passato penso per esempio a Rodolfo Sacco dicevano che per concludere un contratto bisogna avere il tempo di conoscere e di ponderare le scelte ora siamo in un'epoca caratterizzata dall'urgenza tanto che un altro grande giurista che è Irti ha parlato di scambi senza accordo cioè di scambi senza volontà noi clicchiamo non è detto che capiamo che comprendiamo e tantomeno che ponderiamo quindi la nostra libertà è limitata dall'urgenza imposta dai tempi e dagli strumenti che usiamo e anche dalle informazioni a cui attingiamo per sviluppare le nostre decisioni e queste sono limitazioni della libertà forti limitazioni della libertà della libertà contrattuale della libertà di autodeterminarsi della libertà di scegliere come cittadini dettate ripeto da un lato dall'urgenza dall'altro lato quello che più ci preoccupa dalla falsa conoscenza che tutto questo genera terzo punto di queste breve riflessioni che cosa si fa dal punto di vista giuridico come si regola il fenomeno perché naturalmente il giurista interviene o sulla patologia oppure a monte inizialmente per cercare di regolare il fenomeno e qui gli approcci dal punto di vista filosofico sono molto diversi naturalmente c'è chi si arrende alla tecnica Severino Galimberti il nuovo nichilismo tecnologico la potenza della tecnica prevarrà non possiamo che arrenderci c'è chi ritiene come alcuni giuristi cito per tutti ancora una volta Irti che invece si debba tentare quantomeno di governare questi fenomeni e naturalmente siccome siamo giuristi cerchiamo di governarli questi fenomeni ma il problema è chi lo fa e come lo fa primo chi non esiste un legislatore universale ovviamente abbiamo tanti legislatori nelle varie aree del mondo e se vogliamo semplificare Europa Stati Uniti Cina questi sono i tre grandi attori nello scenario geopolitico tecnologico ma anche regolatorio quindi il primo punto è chi fa le regole e il secondo come le fa queste regole perché ci sono tanti modi di dettare le regole ci sono le leggi c'è la cosiddetta soft law che è un modo persuasivo ma non vincolante di dettare le regole che è utilizzato molto nell'ambito internazionale e siccome sono internazionalista secondo già GPT evidentemente a quello faccio riferimento poi ci sono le regole private quelle dettate dai contratti qual è la situazione in questo momento il vuoto normativo che segnalava Maurizio Gabrielli sì c'è o meglio c'è stato nel senso che noi abbiamo vissuto in un vuoto normativo per molti anni più o meno dalla fine degli anni 90 fino adesso con riferimento alla tecnologia per varie ragioni tornando ai tre attori che ho indicato prima l'Europa perché voleva che l'economia anche sotto il profilo tecnologico si sviluppasse e quindi ha fatto un passo indietro gli Stati Uniti perché volevano che le regole fossero dettate sì ma dalle loro imprese e non dagli Stati e quindi hanno fatto un passo indietro la Cina perché per un certo periodo fino agli inizi del 2020 su questi temi a fine del 2018 diciamo a fine del circa 2018 non ha voluto sviluppare regole per cercare di avanzare con la tecnologia in questo vuoto normativo comunque delle regole si sono poste si sono affermate perché che non ci sia le leggi non significa che non ci siano le regole sono diversi livelli di regole quindi il fatto che non ci fossero delle leggi internazionali delle leggi statali delle leggi nazionali non significava che non ci fossero delle regole c'erano delle regole ma di fonte diversa poste attraverso i contratti ma sono sempre regole solo che se la regola la pone lo Stato ovviamente la pone un potere pubblico se la regola la pone il contratto la pone un potere privato e quindi diciamo dal 2000 fino a oggi le regole ci sono state ma sono state regole poste dai privati dalle imprese dalle imprese private che nella maggior parte dei casi sono le sviluppatrici di questa tecnologia e queste regole sono state veicolate attraverso i contratti si è parlato anche di sovranità privata per indicare proprio il fatto che regole importanti decisive per lo svilupparsi della nostra vita e delle nostre scelte fossero poste da nuovi enti sovrani i privati Google Facebook Amazon Microsoft tutti i produttori di tecnologia che hanno dettato le loro regole attraverso i loro contratti spesso uniformi a livello internazionale molto più facilmente uniformi i contratti che uniformi le leggi naturalmente perché in quel caso c'è l'accordo privatistico che regge tutto non c'è bisogno del legislatore quindi noi abbiamo vissuto in un vuoto di tipo legislativo che non coincide con un vuoto di tipo regolatorio perché ripeto la fonte in questo caso era diversa quella dei privati che cosa è successo e che cosa sta succedendo adesso diciamo da due anni a questa parte se dovessi dare proprio un esempio di un fatto emblematico che ha cambiato lo scenario dalla cancellazione dell'account del presidente Trump da parte di Twitter quello è stato il momento topico della svolta dal punto di vista giuridico infatti ve li ricordate in gennaio 2021 Capitol Hill Trump ovviamente incita la violenza attraverso Twitter e Twitter oscura l'account di Trump perché questo fatto è emblematico oggi ovviamente tutto Trump e Twitter ha cambiato proprietà ma insomma non entriamo in questo fatto del 2021 perché questo questo è emblematico perché dal punto di vista strettamente privatistico contrattuale ciò che Twitter aveva fatto nel 2021 era perfettamente conforme alle norme del contratto il contratto fra Twitter e Trump come il contratto fra Twitter e chiunque altro prevedeva che davanti a certi incitamenti di violenza e così via Twitter potesse oscurare quindi dal punto di vista contrattuale perfetto lineare il disagio che tutti abbiamo avvertito sia come cittadini sia come giuristi è stata la limitatezza della prospettiva di quella regola non era un problema soltanto fra privati non era un problema soltanto di tipo contrattuale c'era anche un interesse pubblico alla diffusione di determinate opinioni certamente criticabili però rilevanti dal punto di vista sociale quindi se guardiamo quel caso con gli occhi del privato e del giurista di diritto privato perfettamente lecito se lo guardiamo con gli occhi del pubblico in realtà quel caso era un caso che segnalava che segnalava l'inadeguatezza dello strumento privatistico a regolare compiutamente quel fenomeno c'era anche un altro aspetto che sfuggiva quello appunto politico dell'interesse pubblico e allora ho indicato quel caso come emblematico in realtà più o meno da quel periodo o forse possiamo andare al 2020 al discorso della Presidente della Commissione von der Leyen sulla sovranità digitale europea più o meno da quel momento in poi il potere pubblico cioè gli Stati hanno cercato di riappropriarsi della loro sovranità per 20 anni la sovranità è stata privatistica lo strumento è stato il contratto alla fine del 2019 all'inizio del 2020 più o meno 3-4 anni fa gli Stati vogliono riappropriarsi del loro potere regolatorio vogliono riprendere quel fenomeno che era sfuggito di mano vogliono dettare delle regole perché a questo punto diventa un problema di sovranità digitale e le tre regioni del mondo che ho indicato Europa Stati Uniti e Cina stanno in modo diverso cercando di riappropriarsi del potere l'Europa l'Europa molti dicono non produce tecnologia ma norme che in parte è vero cioè la nostra produzione tecnologica non è adeguata al numero di abitanti dello spazio europeo noi certamente produciamo norme e questo è stato addirittura enunciato come programma dalla Presidente della Commissione Europea nel 2020 lei ha affermato noi dobbiamo affermare appunto riproporre la sovranità digitale europea come? producendo i nostri modelli normativi dettando le nostre regole ma non più regole del contratto regole attraverso le leggi addirittura regole attraverso i regolamenti europei che come tutti sanno sono vincolanti nello spazio europeo e non soltanto in uno Stato e quindi la Commissione Europea e il Parlamento Europeo hanno prodotto moltissime regole potrei fare un elengo lunghissimo ma sarebbe troppo noioso per voi quella più importante per il tema di cui parliamo oggi è la proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale ed è la prima proposta normativa compiuta a livello globale quindi l'Europa sta cercando di affermare il proprio potere perché di questo si tratta dettando delle regole gli Stati Uniti stanno dettando delle regole per salvaguardare il potere delle loro imprese la Cina sta dettando delle regole perché ha una produzione normativa copiosissima la Cina sta dettando delle regole a sua volta per affermare la sua sovranità vi faccio soltanto un esempio da poco tempo alla borsa di Shanghai si possono vendere e comprare dati cioè una borsa per la compravendita dei dati è la prima borsa mondiale che abbia come bene di scambio come merce di scambio i dati il che sarebbe inimmaginabile in Europa però accade in altri continenti e segnatamente in Cina quindi in questo momento c'è una contrapposizione geopolitica che si gioca non solo sulla tecnologia ma anche sulle regole il modello europeo il modello europeo che è quello a cui siamo più vicini ed è anche quello più sviluppato cerca di individuare degli spazi ancora di libertà all'interno della normativa come? prevedendo che ci sia sempre un intervento umano prevedendo che ci sia una sicurezza nei sistemi che si usano prevedendo la non discriminazione come principio fondamentale prevedendo la diversità come principio fondamentale prevedendo la cosiddetta esplicabilità explainability di quello dei processi degli algoritmi algoritmi laddove è possibile però tutto questo è ancora in corso di elaborazione e il mio discorso diventerebbe a questo punto troppo tecnico quindi preferisco semplicemente segnalarvi che in effetti tutto quello che noi stiamo discutendo stasera investe sia la nostra libertà come individui sia la nostra sovranità come individui e come parte di uno Stato o di un'organizzazione sovrastatuale stiamo parlando proprio di sovranità e di sovranità digitale che passa certamente per i dati che passa certamente per la tecnologia che passa certamente per le regole ma che in realtà investe equilibri e interessi a un livello estremamente elevato su scala globale grazie grazie mi hanno colpito due cose poi lascio la parola a lui per farvi le domande mi hanno colpito due elementi di cui avete parlato uno dato quello della lettura del pensiero che veramente fa un po' in pressione e il secondo invece che ha citato la professoressa Finocchiaro di questi termini di tipo emozionale psicologico che vengono utilizzati questi mi hanno fatto un po' pensare perché in effetti è come se la diciamo la globalizzazione delle compagni che governano questo mondo virtuale è come se volessero un pochino trasportarci in un mondo alternativo fatto di emozioni su cui l'uomo forse in futuro potrebbe avere meno ruolo in realtà fortunatamente il discorso l'abbiamo un po' riportato nei termini e nei giusti binari cioè in fondo se lo riportiamo sull'aspetto più tecnologico allora possiamo fare riferimento all'uso io come patologa è chiaro che quelle immagini colpiscono e so che si può fare diagnosi praticamente con la macchina ma chiaramente c'è un apprendimento da parte della macchina su dei dati che poi fornisce l'uomo quindi diciamo se lo riportiamo dal punto di vista tecnologico ci un po' ci riappropriamo di questa macchina prima che ci sfugga e ci porti in un mondo se vogliamo dire parallelo e il fatto di ritornare alla normativa al governo di tutto ciò ecco riporta l'uomo comunque nel ruolo che lui ha cioè ancora ancora diciamo elemento fondante di questo nostro mondo e allora possiamo parlare dell'intelligenza e forse anche in questo senso l'intelligenza è un termine un po' mal usato e forse e forse volutamente usato in questi termini e comunque lascio poi la parola a lui ma ti lascio a fare delle domande appunto per riportarci all'uomo alla libertà alle regole di questo nuovo mondo possiamo dire sì sì una cosa verissima perché questo che ha detto la professoressa Finocchiaro è una cosa super importante sul uno dei pericoli maggiori che c'è con questi sistemi mi riferisco a C-A-GPT non all'intelligenza artificiale in generale è questa confusione fra vero e falso e qui io non non mi riferisco a categorie teologiche importanti morali io mi riferisco proprio a fatti elementari concreti quali quelli che ricordava Giusella qui c'è un pericolo enorme nell'utilizzo di questi strumenti da persone che magari non hanno neanche gli strumenti educativi per capire di che cosa si sta parlando e poi la cosa veramente dal mio punto di vista singolare è che c'è questa narrazione l'utilizzo di queste terminologie è frutto di strumenti di attività di marketing pensate con attenzione cioè c'è tutta questa narrazione che viene fatta per motivi commerciali precisissimi voglio aggiungere solo un ultimo aspetto su CiaGPT CiaGPT ora senza entrare nel dettaglio tecnico questa che molti di voi conoscono che dà queste risposte sembra l'oracolo di Delphi la pizza CiaGPT che cosa fa? se uno la presentasse così forse avrebbe meno attrattiva CiaGPT è un oggetto che prende una sequenza di caratteri che gli arriva la nostra domanda è una sequenza di caratteri non entra nel merito del significato di quella stringa di caratteri e produce in output come risposta alla domanda la stringa di caratteri dal punto di vista sintattico che è più probabile fine quindi è è un generatore di testo che utilizza delle regole poi ha dei risultati sorprendenti ma in questo senso uno degli articoli più critici su questo tipo di tecnologie un paio d'anni fa si intitolava pappagalli stocastici no? perché di questo si sta parlando adesso poi si sta cercando di inserire dei meccanismi di inferenza e altro ancora quindi se uno dicesse guarda che quello ti dà la stringa di testo più probabile e basta le persone forse lo utilizzerebbe in modo diverso ma invece c'è questa volontà e questo è il punto cruciale della faccenda stimoli mi sembra che siano stati tanti ci sono due cose che mi vengono in mente che avete anche già toccato nei vostri interventi però su cui mi piacerebbe un po' approfondire o avere un'altra prospettiva il primo si lega al tema dei dati e dei bias che ci sono nei dati quindi il fatto che c'è un'inequità in qualche modo nel dato e anche la nostra inconsapevolezza come utenti che questi dati li diamo a disposizione di qualcun altro che li può utilizzare per personalizzare la nostra esperienza questo succede molto nei social network nelle piattaforme con cui guardiamo video ascoltiamo musica acquisti online e quant'altro si crea quel fenomeno che a volte viene chiamato polarizzazione per cui io sulla mia pagina Instagram vedo solo quei video quei contenuti che risuonano di più con i contenuti simili che ho già guardato dentro questo aspetto di polarizzazione c'è un rischio per la libertà che è evidente ma che risponde anche un po' al desiderio secondo me abbastanza diffuso nella generazione dei giovani soprattutto di un'usabilità veloce e perciò di accedere direttamente a un contenuto che probabilmente mi interessa allora ci sono degli accorgimenti tecnici giuridici che possono mettere dei paletti per cui questa polarizzazione non diventa più rischiosa per la mia libertà ma è gestibile in qualche modo tanto questa per tutti e due quindi sì e allora se guardiamo a questo fenomeno dal punto di vista micro cioè individuale sì ci sono dei paletti che sono quelli costituiti dal consenso che siamo chiamati a dare al trattamento dei nostri dati personali dall'informativa e questi sono diciamo così gli strumenti giuridici a disposizione dell'individuo c'è un grande tema educativo piuttosto che strumenti giuridici bisognerebbe forse lavorare sull'educazione sulla consapevolezza fare capire a tutti a chi usa cioè tutti questi strumenti insomma come utilizzarli quali sono i limiti e così via quindi c'è un tema proprio di educazione civica direi al digitale se guardiamo allo stesso fenomeno dal punto di vista macro c'è quel problema che abbiamo segnalato prima cioè torno al discorso sulle parole il fatto che le parole che abbiamo usato siano oracolo allucinazione intelligenza tutto ci conduce a pensare a un nuovo mito a una nuova divinità a una nuova mitologia e il discorso è estremamente affascinante evocativo seduttivo dal punto di vista psicologico e tutto questo ci porta in una certa direzione perché beh nella migliore delle ipotesi perché siamo tutti consumatori e quindi condurci in una certa direzione piuttosto che un'altra naturalmente può essere conveniente se poi vogliamo pensare in una prospettiva politica anche lì siamo consumatori ma consumatori di qualcos'altro quindi a seconda diciamo del livello a cui poniamo questa domanda c'è una risposta diversa e certo il diritto può dare degli strumenti però perché dia gli strumenti giusti occorra che ci sia una visione complessiva per andare in una determinata direzione quindi prima c'è la scelta politica e poi ci sono gli strumenti giudici quelli che abbiamo adesso ci consentono di lavorare entro un perimetro circoscritto voi sapete che il garante italiano qualche tempo fa ha bloccato chat GPT dopo 15 giorni ha consentito il riutilizzo dello strumento naturalmente questo provvedimento è stato molto criticato perché comunque è un provvedimento limitato già dal punto di vista tecnologico cioè è un provvedimento che come dire insiste su un territorio fisico laddove il fenomeno non è su un territorio fisico quindi già in questo mostra tutti i suoi limiti ma il garante italiano ha fatto quello e forse anche un po' di più che è un attore in ambito giuridico un'autorità in ambito giuridico in questo momento può fare cioè si è servito degli strumenti che ha quelli che abbiamo detto prima dati sulla dalla normativa sulla protezione dei dati personali se un intervento ci vuole è un intervento a livello più alto è un intervento a livello quanto meno europeo sarebbe necessario un coordinamento Europa-Stati Uniti e ci sono delle sedi in cui si sta lavorando su questo per cercare di contenere il fenomeno e soprattutto di più che contenerlo soprattutto di individuare una grammatica condivisa dal punto di vista sociale entro la quale il fenomeno o con la quale il fenomeno dell'intelligenza artificiale si possa declinare ecco non ho molto da aggiungere salvo il fatto che è un problema veramente importante vorrei ricordare uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti o qualche anno fa sugli adolescenti ed è stato notato come questo fenomeno che tu hai chiamato giustamente di polarizzazione dovuto ai social networks YouTube a varie piattaforme Netflix eccetera ha un effetto negativo sullo sviluppo cognitivo degli adolescenti perché se l'adolescente anche sugli adulti ha un effetto negativo ma soprattutto sull'adolescente se io al ragazzino tutte le volte che si collega alla piattaforma che magari è appassionato di ne so di calcio tutte le volte gli sottopongo delle partite di calcio magari quello che esistono altre cose nel mondo che esiste che ne so la chitarra classica no non lo vede mai allora a di là dell'esempio ma questi psicologi appunto americani hanno studiato un gruppo di ragazzi per lungo tempo e hanno visto questo effetto negativo importante quindi cosa possiamo fare noi dal punto di vista tecnico come informatici direi ben poco certamente possiamo come veniva detto prima da Giusella possiamo cercare di essere più consapevoli di questo tipo di problemi e tutti noi informatici giuristici le persone delle scienze dell'educazione potremmo cercare di avere un approccio a questo tipo di problemi come posso dire più più diretto più chiaro perché anche qua se gli studi non voglio dire gli studi tecnici sull'informatica che sono più comprensivi ma gli studi su queste aree limitrofe che si occupano dei problemi di cui si sta parlando quindi le aree dell'etica della giurisprudenza delle scienze sociali eccetera se questi studi sono finanziati dalle major tecnologiche forse abbiamo un problema quindi anche su questo occorrerebbe una riflessione attenta a tutti i livelli come l'ha stato ricordato prima ma anche dal nostro punto di vista personale grazie e sono contento perché l'altra domanda che avevo in mente riguardava proprio il tema della consapevolezza che prima avete toccato nei vostri interventi soprattutto quando si parlava di chat gpt in modi diversi però entrambi l'avete affrontato e adesso l'avete collegato al tema dell'educazione che a me poi sta a cuore perché nella vita nasco come insegnante di matematica e fisica prima che come dottorando di intelligenza artificiale e credo che il problema dell'informazione per costruire una consapevolezza sia centrale ma che forse non è facile capire qual è il tipo di informazione di competenza di conoscenza di categorie che bisogna fornire anche ai ragazzi per essere in grado di gestire anche di relazionarsi con questa intelligenza perché se poi gli attribuiamo la parola intelligenza e quindi gli stiamo dando una soggettività vuol dire che c'è anche una relazione con questo quindi quali sono le competenze e le conoscenze che dovrebbero avere considerando che ci sono degli aspetti tecnici che non sono facilmente gestibili e anche chi ha la responsabilità di questa informazione e la competenza per dare questa informazione quindi non so come vedete questa cosa è una domanda ampia ma allora io partirei dai media dalla stampa io insegno più o meno insomma come con altri colleghi qui a Bologna questa roba da 20 anni e molto francamente oggi faccio fatica a vedere tutti i giorni sui giornali sulle televisioni queste notizie che spesso sono relative all'intelligenza artificiale intendo che spesso sono scritte raccontate con un linguaggio veramente dal mio punto di vista sbagliato sbagliato perché uno tecnicamente impreciso ma di questo ce ne facciamo una ragione non si non si chiede che un giornalista sia un tecnico in nessun ambito per carità però qua come si diceva prima c'è questo è veramente facile far ricorso a questi luoghi comuni tratti anche dalla letteratura dalla fantascienza si arriva a citare le leggi di Asimov in un testo formale siamo veramente siamo veramente insomma oltre forse quindi io penso che da questo punto di vista i media gli organi di informazione hanno una responsabilità cercando appunto di dare un'informazione corretta senza rinunciare ovviamente al loro lavoro ma dando un'informazione corretta la seconda cosa assolutamente ovvia che dico è la conoscenza noi cerchiamo di insegnare questo tipo di tecnologie questo tipo di anche di problemi non soltanto ai nostri studenti di informatica ma in molti altri contesti diversi agli studenti di giurisprudenza agli studenti di economia in vari contesti perché è importante secondo me per poter esprimere delle opinioni informate su questo tipo di problemi che le persone conoscano un minimo non il dettaglio tecnologico ma quello di cui si sta parlando perché altrimenti si apre veramente la porta a tutte le forme di superstizione e quant'altro perché è una cosa ovvia ripeto che dico soprattutto qua dentro ma la conoscenza la conoscenza anche tecnica dei fatti innanzitutto secondo me è già un buon punto di partenza sulla terza cosa magari rispondi te Andrea se te che ti occupi noi ci occupiamo con Andrea di utilizzare tecniche tecnologie basate sull'intelligenza artificiale nel mondo della didattica dell'educazione insomma quindi cercare di usare questi strumenti per migliorare le carriere degli studenti e quant'altro lì anche lì è un ambito molto molto delicato però ecco collaboriamo con colleghi e colleghe di scienze dell'educazione con risultati anche incoraggianti ecco bisogna che anche lì secondo me noi per primi ma anche colleghi di scienze dell'educazione si cerchi di mantenere un profilo il più basso possibile mi spiego con un esempio cioè noi ad esempio cerchiamo di sviluppare dei sistemi che possano sulla base dei dati che ha uno studente quando arriva all'università quando si iscrive all'università che possano predire e fornire una valutazione probabilistica del suo risultato in termini di abbandono oppure no degli studi universitari quindi insomma il sistema ecco allora questa cosa qua se noi la usiamo per i corsi di laurea per gruppi di studenti per migliorare complessivamente dei servizi dell'università ha senso secondo me se noi andassimo usarla sul singolo se noi dicessimo l'università di Bologna ha lo strumento che predice se lo studente abbandonerà oppure no gli studi questo sarebbe a parte non sarebbe vero non sarebbe possibile ma sarebbe un pessimo servizio che noi faremmo da questo punto di vista quindi bisogna cercare di dare queste informazioni nel modo più corretto possibile che non è facile no adesso non entrerei nei dettagli di questa posso rispondere rispetto al tema dell'applicazione di intelligenza artificiale in ambito educativo dove ci sono tra l'altro due prospettive perché un conto è come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per migliorare il contesto educativo un conto è qual è invece il bisogno educativo per educare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale per l'educazione o l'educazione per l'intelligenza artificiale che sono due prospettive diverse entrambe con delle sfide etiche non da poco anche perché c'è sempre un problema che i dati che si hanno a disposizione per quanto possano essere tanti non riescono ad essere una rappresentazione equa della realtà una realtà tra l'altro che cambia in fretta e quindi c'è sempre il rischio che ci sia qualcuno che non sia rappresentato dal dato e quindi aggiungo pochissimo aggiungo che secondo me bisogna proprio lavorare su una forma di educazione civica digitale chiamiamola così cioè educazione di base assolutamente di base non specialistica non che richieda competenze particolari gli informatici ci sono i giudizi ci sono ma fanno il loro mestiere quando richiesti questo è un problema che riguarda tutti e quindi visto che la nostra vita ormai si svolge online in gran parte occorre che per vivere online siamo consapevoli di quello che facciamo e quindi secondo me bisogna lavorare su un'educazione assolutamente di base diffusa in tutta la società qualche domanda prego due si va due domande uno il problema del tempo ha detto prima il professore si chiedono decisioni rapidissime uno dei problemi è per esempio con banalità l'autorizzazione all'uso di certi cookie che è genera quali dati mi possono prendere se me lo pongono ogni tre minuti girando a cercare informazioni io a un certo punto non posso andare tutte le volte a rileggere a pegliare delle pagine non arrivo in fondo quindi questo mi costringe spesso e volentieri se ho urgenza dire va bene accetto allora è possibile pensare un sistema per cui io possa chiedere per esempio alla professoressa o all'università a chi volete farmi un contratto tipo sui cookie io lo registro e tutte le volte che me lo chiedono dico accetto è il mio quindi il contratto passa a me come tu non mi vuoi fornire esci fuori dalla fornitura ecco questo non sai questo qui un'altra cosa l'intelligenza artificiale come molte altre cose nella informatica è basata su algoritmi no? allora quando io per esempio chiedo una misura di variabilità usando degli algoritmi statistici io so cosa come è costruito posso sapere come è costruito quell'algoritmo e quindi dare una valutazione sull'attendibilità o meno alla risposta se quello che mi propone il fornitore di intelligenza artificiale brevetta e non mi fa sapere come fare il calcolo io non posso valutare l'attendibilità di quello che viene fuori allora è possibile avere come del resto è stato per web per internet una open obbligo di rendere noto questo e di poter intervenire perché allora ancora una volta si potrebbe correggere cioè il fatto che sia segreto l'algoritmo o almeno non ho visto la possibilità di opzione di algoritmo allora questo mi costringe e mi varia non so la risposta questo naturalmente può essere cose se voglio vedere o non vedere una partita di calcio pazienza ma quando la risposta per esempio va a chi deve prendere delle decisioni e per esempio l'elettore e quindi forza l'elezione beh la libertà diventa un grosso problema se c'è un'altra domanda così magari le raccogliamo anche io volevo fare una domanda l'inquietudine di questa epoca che viviamo e l'avanzamento della grazie viviamo l'inquietudine di avere questa intelligenza artificiale che finora è stata messa un po' in silenzio adesso esplode facendo il mio volontariato è da diversi anni che frequento dei convegni e veniva fuori questa cosa però è fatto che adesso ormai si è impossessata e non è facile adesso trattenere le cose e imporre delle leggi perché c'è già qualcosa di inquieto che riguarda le future guerre moderne che saranno seguite da questa intelligenza che governerà le macchine e gli strumenti che faranno le guerre e in più anche oltre all'educazione già i ragazzi si sono gli adolescenti sono ormai presi un po' d'assedio da questi strumenti e non è neanche facile per i genitori io sono nonna e vedo i miei nipotini che hanno in mano sempre quegli oggetti e credo che questo vada osservato da un punto di vista delle leggi certamente di fare delle precise che l'Europa faccia delle regole precise e anche veloci perché altrimenti sfugge questo controllo siamo in balia di qualcosa che non conosciamo bene grazie terza domanda poi risposta fare qualche numero prima di tutto vorrei che ci contassimo confrontandoci con il numero dei followers di mister ok ad esempio quale capacità di convincimento ha mister ok enjoy pardon mister enjoy rispetto a questa riunione credo che ne abbia due milioni di iscritti di follower un altro numero così abbastanza importante quando una signorina che ha qualche milione anche lei di iscritti è diventata consigliere di amministrazione di una società quotata ha fatto un salto di sette punti quindi noi dobbiamo renderci conto che stiamo combattendo o chi lo vuole combattere una battaglia di assoluta minoranza con la quale alla quale siamo costretti da un'incapacità degli ultimi 20 o 30 anni perché di intelligenza artificiale si parla da 20 anni circa una miopia politica che di persone che non sapevano dove andare dei poveri fuggiti di casa che però noi abbiamo votato abbiamo votato quindi noi abbiamo il responsabile che è poi dopo si facciamo le leggi ma è too late troppo tardi fare le leggi responsabilità io ho sentito tante cose su molte cose non sono d'accordo ma non sono su queste volevo ragionare la classe politica oggi è sul banco degli imputati l'unico quindi va le leggi ci sono gli antitrust c'è da cent'anni c'è come spezzare queste grandi potenze che hanno un giro d'affari superiore a qualsiasi a molte pilli del mondo si vanno combattute con gli antitrust prima di tutto per tagliare un po' il potere è la classe politica che non si sa se è subalterna perché è pagata oppure subalterna perché è incapace questa è la cosa però oggi noi siamo di questa cosa qui come si fa a combattere con lo spirito critico poi si era affrontato il problema del falso e del vero ma questo il falso e il vero è cent'anni che c'è diceva Goebbels ripeti mille volte una bugia diventa una realtà quindi non stiamo parlando di queste idee poi un branco di cerebrati segui i social ma cosa vogliamo farci io avevo proposto così per spezzare di sospendere il voto a chi vorrà dare il grande fratello ma è una battuta però non è mica tanto una battuta grazie grazie tutto molto interessante volevo chiedere alla professoressa Finochiaro se ci approfondisce i concetti che ha citato relativamente alla libertà in che misura sono specifici dell'intelligenza artificiale o di queste nuove tecnologie perché il dubbio che a me viene che in fondo questi problemi di verità non verità fake news o contratti che si tendono a firmare in modo poco cosciente io li vedo anche in tantissimi ricambi tutte le volte che vado a firmare pagine di che non so quante persone leggono ma è un'assicurazione ma anche un contratto di fornitura dell'energia elettrica ha pagine pagine di clausole non credo siano particolarmente fornite il discorso della verità delle informazioni qualche tempo fa non c'era internet c'era il telegiornale e quello che diceva il telegiornale era verità era verità o quello che scrivono sui giornali quindi volevo capire bene quanto queste sono particolarmente evidenti nel mondo dell'intelligenza artificiale grazie ultima domanda buonasera io volevo chiedere al dottor Gabrielli che prima parlava di Alan Turing che è una figura straordinaria credo credo che negli anni 50 professore lui abbia creato un test il famoso test di Turing per cui rinchiudendo un uomo e una macchina in due stanze separate e facendo una domanda l'uomo che riceve le domande indietro è sempre in grado di discernere se ha risposto il computer o se ha risposto l'umano e credo che ad oggi l'umano sia ancora in vantaggio se non vado errato ma le vorrei chiedere per viste i progressi incredibili che fa per esempio ChartGPT per quanto ancora questo potrà avvenire e un'altra veloce domanda se mi permette è ho sentito un'intervista di un professore di Oxford di cui non ricordo il nome che di fronte a tutti i dubbi sul fatto che in qualche modo l'intelligenza artificiale ci sorpasserà ci sovrasterà avremo dei problemi dice si può sempre molto banalmente si può sempre staccare la spina invece ci sono molti altri che dicono che fra un po' o se non già da oggi staccare la spina non sarà più non sarà più sufficiente e questo le volevo chiedere grazie mille io volevo sottolineare solo una cosa molto molto importante detta da tutti ma soprattutto dalla professoressa Finocchiaro e che è il rapporto forte che esiste fra scusate fra consumo e intelligenza artificiale ora la nostra la centralità della nostra società è non è più la produzione ma il consumo il consumo che ha logiche che non sono che non è più la logica causale ma è una logica che posso chiamare analogica cioè è primavera mi vesto di rosso mangio ciliegie questa analogia generalizzata chiamiamola così questo nuovo modo di ragionare è un modo che trova poi una rispondenza molto forte proprio in quanto è stato detto nell'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale non non fa i conti con la tua con una razionalità causale ma fa i conti con una razionalità analogica o emotiva quindi noi siamo in un mare di emozioni non controllate e non controllabili abbiamo perso all'inizio non ci siamo resi conto ma tanto era lo stesso e non ci siamo resi conto che non c'era una una disciplina ma la disciplina spero che che serva qualcosa ma serve al giusto perché siamo noi ormai la nostra area esperienziale è il consumo con queste logiche di consumo affrontiamo tutto quindi affrontiamo anche l'intelligenza artificiale che ci sembra un mostro con quattro teste ci sembra Dio ci sembra tutto quanto finché non riusciremo chissà forse non ci riusciremo mai non riusciremo a tornare degli esseri umani normali che ragionano in maniera come una volta che facevano nel settecento boh no ma non riuscire si diverteva allora tanti spunti questione del brevetto e della segretezza degli algoritmi sì condivido tutto quello che è stato detto è chiaro che però c'è anche una considerazione da fare cioè la segretezza del brevetto ostacola certamente la conoscenza però per comprendere il modo in cui comunque un sistema funziona ci vuole una competenza che non è una competenza media quella che si potrebbe definire competenza dell'uomo medio quindi certamente il brevetto è un ostacolo ma non è che la conoscenza dell'algoritmo consenta a chiunque di noi di comprendere esattamente come funziona un determinato sistema e una determinata applicazione la normativa che si sta sviluppando va nel senso della come dire trasparenza e della comunicabilità e sarà probabilmente un passo avanti nella direzione della condivisione della conoscenza e delle informazioni per tutto quello che riguarda i cucchi le licenze i contratti c'è un filone di normativa recente sulla circolazione dei dati e delle informazioni che diciamo così prevede delle forme di contrattualizzazione e di licenza che sarebbero gestite o dovrebbero essere gestite dallo stesso utente interessato e quindi insomma in qualche modo andando in quella direzione regole precise e veloci regole precise e veloci a livello europeo è quello che si sta tentando di fare con il regolamento la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale che però certamente non è né bastante né sufficiente ha un approccio che è basato sulla valutazione dei rischi e quindi vieta fondamentalmente le applicazioni più rischiose consente le applicazioni meno rischiose a condizione che queste rispettino determinati requisiti e consente senza nessuna certificazione le applicazioni che non sono classificate come rischiose questo è una grandissima linea alla normativa è un approccio generalista quello europeo attualmente cioè vuole normare tutto il fenomeno dell'intelligenza artificiale senza soffermarsi su applicazioni specifiche cioè non è una normativa sulle applicazioni mediche sulle applicazioni giuridiche sulle applicazioni di un altro settore del sapere o dell'esperienza è una normativa di tipo generalista lo scopo fondamentale della normativa europea che si sta sviluppando su questo è quello di vietare alcune attività che pure sono utilizzate in altri paesi per esempio in Cina quello che si vieta per esempio è il cosiddetto social scoring cioè assegnare ogni individuo un punteggio sulla base del comportamento che questo individuo adotta paghi le multe hai eccesso di velocità sei puntuale nel pagamento dei debiti e così via vieni classificato in un certo modo non paghi le multe non paghi il mutuo sei sempre in ritardo vieni classificato in un altro modo questo tipo di classificazione agli individui per esempio è solo uno dei mille esempi che si possono fare il punteggio sociale il social scoring è applicato in alcuni paesi come in Cina non è applicato non è applicabile in Europa secondo questa proposta di regolamento di intelligenza artificiale sono problemi nuovi? no ma questo diceva anche Econo quando diceva che sostanzialmente con internet chiunque può fare sentire la propria voce ovunque è chiaro non sono problemi radicalmente nuovi non è che il problema della libertà contrattuale non ci sia mai stato o il problema della falsa informazione della verità non ci sia mai stato se ci interessa non ci interessa questo è un altro problema è un altro tipo di discorso c'è stato c'è sempre stato il problema è se diventa il sistema di riferimento non una possibile pratica ma la pratica è un problema come dire di quantità che si applica naturalmente che diventa che si applica in una determinata scala sociale e che diventa qualità se la falsa informazione c'è sempre stata che la falsa informazione conduca guidi le scelte di grandissima parte della popolazione questo attraverso gli strumenti che utilizziamo quotidianamente forse questo è un tema diverso o un problema diverso quindi io credo che il tutto vada riportato anche alla quantità alla scala ai numeri al modello sociale di riferimento benissimo ha detto la professoressa di Nallo prima società del consumo se le scelte sono o meglio se il modello sociale è un modello come già abbiamo visto ma ancora di più attraverso il digitale indirizzato fondamentalmente a noi come consumatori forse questo un po' ci deve preoccupare perché effettivamente condiziona moltissimo la nostra libertà ripeto non credo che non siano problemi che siano problemi nuovi o problemi mai esistiti credo che siano problemi che si presentino che si presentano con una in una forma e con una entità e con un impatto che possono essere diversi e secondo me comunque devono farci riflettere devono farci riflettere brevissimamente due o tre considerazioni ho segnato qualche cosa poi ho una scrittura della quale non riesco a leggere quindi sono messo male allora il computer adesso lo uso male ma comunque su quest'ultimo tema dei problemi che non sono nuovi allora innanzitutto è stato detto prima sono state date delle date l'intelligenza artificiale è vecchia tanto quanto l'informatica di 70 anni le tecnologie sono sostanzialmente le stesse negli ultimi anni c'è stato questo sviluppo enorme dovuto alla potenza di calcolo disponibile e costi ridotti ma non è che c'è stata una rivoluzione quindi i problemi sono questi da tempo la differenza importante una differenza importante di oggi rispetto al passato è la velocità come è stato detto se voi prendete internet non ho il dato qui preciso ma per arrivare a un miliardo di utenti internet ci ha messo anni chat GPT per arrivare non so se sono già un miliardo penso di sì ma insomma per arrivare a un miliardo di utenti ci ha messo ci metterà giorni quindi la scala è completamente diversa non vado alla rivoluzione industriale che ha richiesto passaggio una delle rivoluzioni industriali passaggio dal carbone all'elettricità anni e anni di trasformazioni qui nel giro di sei mesi cambia il mondo dal punto di vista della tecnologia quindi noi ci troviamo ad affrontare problemi vecchi che ci sono sempre stati ma con questa scala temporale completamente diversa un conto è se ci sono cento persone che fanno cose cose strane un conto è se ce ne sono un miliardo in poche settimane quindi c'è questa scala temporale che è importante e importante sottolineare dopodiché venendo agli aspetti della segretezza degli algoritmi ci sono dei limiti tecnici intrinseci noi cosa facciamo cosa faccia nel dettaglio una rete inorale non siamo in grado di dirlo oggi anche volendo quindi ci sono questi limiti tecnici però ci sono approcci diversi da un lato c'è OpenAI con CiaGPT ma esiste un'altra società molto conosciuta tra gli addetti ai lavori che si chiama AgInFace una società francese che sta crescendo moltissimo che si propone come alternativa Open rispetto a OpenAI OpenAI di Open c'è soltanto il nome evidentemente quindi AgInFace propone modelli aperti dataset aperti tecniche aperte e lì nel sito di AgInFace c'è scritto tutto quello che noi dal punto di vista scientifico tecnologico siamo in grado di dire su quei modelli quindi un altro approccio è possibile ci sono persone che stanno seguendo questo 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 tipo di approccio io non mi sento di combattere io ho sempre combattuto battaglie di minoranza e battaglie perse quasi sempre in partenza ma in questo caso specifico non mi sento ecco di combattere una battaglia di minoranza forse per il mio lavoro noi insegno queste cose ma il punto qua non è dal mio punto di vista per spezzare anche una lancia a favore della tecnologia non è contrapporsi a un'evoluzione tecnica scientifica che va in una certa direzione il punto è cercare di regolamentare normare capire questo tipo di tecnologia evitare gli abusi ma poi la tecnologia l'intelligenza artificiale non è soltanto il machine learning dannoso del quale abbiamo detto se noi andiamo in un ospedale se noi ci facciamo una radiografia una PEC una TAC quello che vi pare lì si utilizzano tonnellate di questa tecnologia con penso giovamento di tutti quindi c'è molta parte di tecnologia dell'intelligenza artificiale che è utile che viene usata quotidianamente che non è quella del telefonino di Netflix è altra e che serve insomma quindi anche questo per mettere le cose nella giusta prospettiva sicuramente causalità e correlazione sono due cose diverse devono rimanere diverse c'è l'errore che fanno alcuni sistemi di confondere la causalità con la correlazione c'è una bellissima slide ora non la ritiro fuori ma fa vedere la correlazione fra i morti affogati nelle barche da pesca a largo di Boston sui banchi di Terra Nova la pesca del pesce spada e roba simile e i divorzi nel Kentucky e c'è una correlazione di 0,95 quasi uno uno è la correlazione perfetta ora nessuno sano di mente penserebbe che questi due aspetti sono correlati quindi quando si parla di machine learning è importante ricordare che correlazione è una cosa causalità è una cosa diversa ma ci sono sistemi di intelligenza artificiale che usano la causalità i sistemi basati sulla logica sull'inferenza logica usano la causalità e lì possiamo essere tranquilli da questo punto di vista venendo a Turing limitation game poi noto anche come Turing test per chi non lo conoscesse fu proposto da Turing per rispondere alla domanda abbiamo detto prima Turing era interessato a sistemi che esibissero comportamenti intelligenti allora la domanda è come faccio a vedere se un sistema si comporta in modo intelligente la risposta di Turing è benissimo prendiamo due stanze separate da un muro da una parte ci mettiamo un essere umano il tester un controllore dall'altra parte ci mettiamo un essere umano e una macchina il controllore fa delle domande alternativamente all'essere umano e alla macchina non sa con chi sta parlando e dalle risposte deve giudicare se quello con cui sta parlando è l'essere umano oppure la macchina se il tester l'osservatore riesce a distinguere dalle risposte dell'essere umano e dalla macchina la macchina ha fallito il test è stata smascherata come macchina se lui non riesce o lei non riesce la macchina è stata confusa con un essere umano quindi ha superato il test questo per chi non conoscesse il test di Turing la domanda c'ha GPT oggi supera il test di Turing no se voi prendete un utente non esperto forse sì ma se voi prendete alcuni utenti io ho dei conoscenti delle amiche queste filosofi di cui parlavo prima che sono scatenate e passano il tempo a trovare domande alle quali c'ha GPT risponde male vi trovano una lista infinita di domande alle quali c'ha GPT dà delle risposte sbagliate quindi ad oggi non esiste nessuna macchina che passi il test di Turing in senso ampio in ambiti specifici magari sì esisterà questa macchina in un futuro non lo so io qui cito un articolo fatto da degli psicologi di nuovo che ha analizzato un migliaio forse più circa 1600 predizioni fatte sul futuro da esperti di tecnologie in vari ambiti più diversi il tasso di correttezza di queste predizioni del futuro è stato del 48% quindi se avessimo lanciato una monetina avremmo fatto meglio quindi la predizione sul futuro fatta così è sempre molto difficile verosimilmente c'ha GPT migliorerà quei sistemi miglioreranno arriveranno a dare risposte risposte veramente insomma molto migliori di adesso nel giro di poco tempo questo sì se arriveranno ad essere a poter essere confuse con un interlocutore umano io questo onestamente non sono in grado di dirlo e penso con molta forse immodestia che nessuno sia in grado di dirlo oggi staccare la spina ad oggi sì ad oggi tutte le macchine di mia conoscenza vabbè hanno le batterie ma insomma se gli stacchiamo la spina risolviamo il problema certamente parlando un po' più seriamente c'è chi paventa la cosiddetta singolarità tecnologica cioè un momento in cui un punto di singolarità voi sapete i matematici soprattutto le singolarità e anche i fisici non piacciono tantissimo ad alcuni piacciono molto ma in generale sono dei punti problematici la singolarità tecnologica è intesa come un momento in cui in questo ambito dell'intelligenza artificiale le macchine possono arrivare ad avere una conoscenza una quantità di conoscenza e anche una qualità che è superiore a quella dell'essere umano nel senso ripeto soprattutto della quantità ma anche di un certo tipo di qualità e in quel punto l'essere umano non sarebbe più in grado diciamo di controllare direttamente la macchina cioè se noi ci troviamo ad avere a che fare con una macchina che fa delle cose che noi non comprendiamo più è chiaro che a quel punto possiamo avere un problema questa prospettiva per ora è abbastanza lontana ma certamente la capacità di memorizzazione di elaborazione delle informazioni delle macchine è molto molto superiore a quella dell'essere umano certamente elaborazione quantitativa sto dicendo non ragionamento ovviamente certamente ci sono degli istituti importanti di ricerca dove stanno addestrando istruendo fra virgolette delle macchine facendogli trasmettendogli diciamo tutta la conoscenza scientifica di un certo ambito quindi si prende tutta la letteratura scientifica in un certo ambito si dà a questi sistemi in modo tale che i sistemi si specializzino su questo tipo di di conoscenza quindi lì insomma qualche qualche tipo di perplessità può può esserci ripeto c'è chi paventa questo momento della singolarità dal mio punto di vista diciamo non c'è niente di così preoccupante all'orizzonte nell'orizzonte immediato sul futuro io faccio un altro lavoro non faccio il previsore del futuro ecco diciamo così ok grazie posso altro che ringraziarci grazie 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 grazie